Han Superman Presto Papà Chi è papà? Si chiama Max. Ha bisogno di aiuto. Ti nascondi da Hitler? Sì, sono ebreo. Ti ho portato una cosa. Sei piena di sorprese. Stai rubando libri. Perché? Se la vita ti ruba qualcosa, a volte devi riprendertela. Nascondi qualcuno, vero? Se qualcuno dovesse vederlo, ti porterebbero via da me. E non posso dirti che cosa farebbero a lui. Ho paura. Perquisiscono gli scantinati. Mamma! Cos'è questa storia? Max! Max! Non posso perderti. Mi hai tenuto in vita, Liesel. Non devi dimenticarlo mai. Mamma! Le parole sono vita, Liesel. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero? C'era una volta una ragazza che aveva un amico che viveva nell'ombra. Lei mi ricordava cosa si provava a sentire il sole sulla pelle e cosa si provava nel respirare. E questo ricordava a lei che era ancora viva. Buonanotte, ladra di libri. non vediamo. No. 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 Grazie a tutti.